A cavallo tra le due sfide di Champions col porto per la Roma c'è l'Udinese che i giallorossi hanno sempre battuto negli ultimi sei precedenti di campionato. L'approccio con la partita dei giallorossi è però troppo soft, ci prova il Sharawi. Facile Carnezis, dagli spogliatoi dopo l'intervallo esce un'altra Roma che scala le marce, alza i ritmi. Dzeko è fermato ancora una volta dal portiere dell'Udinese. Ma qui arriva il presunto contatto con Danilo che cerca da terra Dzeko, difficile sbilanciarsi. Perotti in compenso sbilancia Carnezis e fa 1-0 per la Roma, ancora un rigore questa volta di Samir su Salah. Ancora Perotti infallibile dal dischetto, 2-0 per la Roma che si scatena nel finale, si diverte Nainggolan in scivolata. Sforna l'assist per Edin Dzeko, c'è gloria anche per il bosniaco dopo il suo super lavoro sporco e alla fine Salah trova la gloria personale. L'ottantatresimo per il 4-0, 18 minuti, 4 gol per la Roma, ora la Champions.